Ciao, io sono super certa che non avete impegni per la sera di giovedì 18 dicembre e che sarete tutti con noi alla presentazione dell'album Burning Life Perché Barbara Saba? Beh, perché tanto ha fatto un disco meraviglioso di quelli che vanno ascoltati e che dire, l'innovazione stilistica parastrutturale che si innerva nelle fondamenta stesse stesse della produzione del disco Burning Life ne depaupera vicendevolmente sia il valore artistico che quello morale Una serie di musicisti straordinari a cui si aggiungono altrettanti nomi straordinari e ben conosciuti Noi come in qualità di Frigidaire, un gruppo D'WAP che abbiamo collaborato, abbiamo avuto l'onore e l'opportunità di collaborare a un brano con i nostri coritti, con le nostre armonie vocali Qui sul palco dell'Ian Club, BB and the Red Cats, una roba, una roba fantastica Per questo bellissimo disco, un grosso in bocca al lupo e tanti tanti saluti da quelli di Senigallia e dal Summer Giambolini Un bel disco, è proprio rock and roll dall'inizio alla fine, Burning Life Mi raccomando, 18 dicembre, l'Ian Club, Roma, ci sarò anch'io E si balla con le mie selezioni, vi aspettiamo, non mancate Evi lì No more worries, no more troubles from your mind Burning Life, looking for dissatisfaction Burning, move away and leave the past behind Burning Life, we're down on a new direction No more worries, no more troubles from your mind